ciao a tutti oggi ho un prezioso e gustoso consiglio per chi soffre di piccoli problemi alla circolazione un succo di mela melograno e barbabietola gustoso e facile da preparare grazie al mio estrattore professionale imetec succo vivo pro che grazie al suo potente motore professionale induzione che lavora 60 giri al minuto permette di mantenere il 95 per cento delle vitamine dei nostri alimenti inoltre trovate questa coclea che è più alta dello standard quindi potrete ottenere il succo di qualsiasi tipo di frutta e verdura e poi guardate quanti accessori potete davvero dare sfogo alla vostra creatività ho ripulito il melograno tagliato la barbabietola cruda mi raccomando e le due mele adesso inseriamo tutta la frutta nell'estrattore per questo succo io ho scelto un filtro a maglia larga così da avere il massimo delle fibre dei miei alimenti ovviamente però si può anche scegliere un filtro a maglia più stretta manca solo la ciliegina sulla torta o meglio il nostro cioccolato fondente al 72 per cento il connubio perfetto per la nostra circolazione sanguigna il nostro estratto è pronto bevendone un bicchiere al giorno il cuore ci ringrazierà tutto merito dell'estrattore professionale imetec succo vivo pro salute perfetto ciao Grazie a tutti.